Bella ragazzi, qui Xenia che vi parla e benvenuti finalmente nel primo video ufficiale del canale. Lo so, sto trattando un gioco che ormai tutta YouTube Italia porta, visto e considerato la bellezza che ha telegioco, ma questa sarà solo una fase di prova per il futuro del canale, visto la poca esperienza che ho. Ma comunque sia, spero che vi piaccia il contenuto e se potete fatemi sapere alle vostre opinioni qui sotto nei commenti. Comunque sia, vi lascio in descrizione tutti i link per i pali social dove potrete contattarmi. La serie non durerà molto, è vero, il tempo di vincere partendo da ogni città della mappa, ma comunque sia, io e il mio socio che ti ringrazio, Alfredo, ci impegneremo al massimo per portarvi il miglior contenuto possibile. Un saluto e ci becchiamo nel video. Affè, se c'è qualcuno in zona? Per la pepone che ho due guardi. Ah, minchia. Un giro il best, infatti. Non vedo nessuno, nemmeno io, neanche sopra. Minchia, arrivo proprio all'ingresso della casa. Allora io vado sopra. Buongiorno signora. Minchia, munizioni, al solito. Sopra ci sono casse. Un bombo quello che piace a me. C'è un altro. M4 verde, buono. Munizioni e pistola, non me ne faccio un cazzo. Sotto cosa abbiamo? Niente. E qui sotto, cassa. Bello. Ok. Apriamo qua. Mitraglietta, non me ne faccio un cazzo. Bomba ballerina, nemmeno. Munizioni, sì. Ok. Fucilare a chi. Una classe munizioni. Alfredo, la vuoi l'M4 oppure ce l'hai? Dipende che colore è. No, è bianco, è comune. Allora no. Prendono la bomba ballerina per ora. Altra cassa, ci dovrebbe essere. Ah! No. Giacomo, non mi dà doppia cassa qua nel capannone grigio. Penso che è bestemmio come l'animale. Spatti tutto tutto. Tu devi essere aperto una sola e c'era lo scar. Allora, qua non c'è un cazzo. Qua sì. Sono un goglione. Allora, qua sopra abbiamo... Un cecchino e delle cose. Allora, il cecchino lo prendo volentieri e do via il fucile a traffica. Gli scudini. Non me ne faccio... Alfredo, prendi tu gli scudini se puoi. Oh ma, non li prendo io. Ma che c'entra? Oddio! Dietro. Dietro. Ah, 105, 105, 105. Vieni qua, sali qua sopra. Prova a cecchinarlo. Guarda quello. Ammichia l'ho visto. Ma è davvero lontano. A 105. La sotto è. È atterrato, è atterrato, è atterrato, è atterrato. Atterrato. Pusciamoli, pusciamoli perché sono in due. Vale, poi ti insegno come si fa. Aspetta che ce l'ha il granadio, vero? Ma veramente non ho colpito a nessuno. Va. Eccolo. Atterrato. E dove cazzo è lato? Bravo. Ok, hai eliminato. Allora, chi? Medi, ma non avevano un cazzo questi qua, veramente. Ma persone più povere di queste non ci potevano essere. Ma non c'erano manco colpi. Non c'erano un cazzo. Medi, chi ti devo prendere? Eh, prendi, tu, prendi, tu. Insulting Springs, tutta quanta lutata, quindi non ha senza andarci. Perché non troveremo un cazzo. Sì, dire che se andiamo qua verso la fabbrica, troveremo qualcosa. Ma hanno costruito la... No, non l'hanno costruito. Dire che se andiamo alla fabbrica, troveremo molte persone. Però altri stiamo vicini. Cioè, dobbiamo essere compatti in mare, in modo tale che almeno tu mi puoi... Io la vedo, io la vedo roba dorata, un attimo. Ma se la pensi... Forse era comune. No, era comune. Era comune, infatti. Viene qua, andiamo al deposito. Poi vicini a Fred. Che moda... Ecco, le ho viste, a 60. Sono in due. A 60? Sì, vediamo se deve scatterarlo col cecchino, no. Sono andati dietro. No, aspetta. Non ti farei vedere, non ti farei vedere. Sono andati dietro. Ci vediamo dentro il capannone. Comunque hanno luta tutte le cose. Vai, 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 vai. Io non ci vedo questa cosa che si rompeva. Eccoli, eccoli, eccoli. Vai, Alf, fai diamo. Vabbè, Sandy, fanculo. Ecco, eliminato. Mi ha ucciso quello. Alf, però non ammazzerà me, ti prego. Non c'è il fuoco, amico? Vale, tu. Oh, cosa aveva? Jump. Il che non è male. Medikit. È un cazzo. Il medikit si vuole, tengo io che già ne ho due. Eh, prendi, prendi. Ah, uno scar questo qua? No, la pistolina silenziata. Occhio, occhio, colpi, 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 colpi. Non capisco da dove, però. Nemmeno io. Ah, al fai, 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 al fai. Ah, sì, l'ho visto. Cazzo. La gira in giocata. Scusate. Ok, ha attirato uno? Uno. L'altro, l'altro è qua. Vai, eliminato. L'ho eliminato. Scarra. Ma chi tu li stai eliminando? Gli sparo per un'ora pure io. Alf, Alf, abbiamo la safe. Dobbiamo correre. Ma il medikit di prima, qua è. Prendi, 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 scappiamo, scappiamo, abbiamo la safe. Se no ci rompe il culo, amare. Vai, andiamo, andiamo, andiamo. Ma infatti, ma sposa, quanti kill hai fatto tu? Una. Una? Certo, perché gli sparo un caricatore, poi me li vedo morire senza darmi la kill. Ah, fai, ma te lo sai quando lo faccio per rubarteli. Vabbè, ma ovvio, ma l'importante è ucciderli. Infatti. Il gioco di squadra è un po'. Minchia, qua so che ci sono delle munizioni, ma lasciamo stare. Vai, il drop. Là sotto, a 3.30. Allora, secondo me ci possiamo andare, sa. Ah, minchia, qua. Ma non c'è un altro qua. Infatti. Costruiamo. Vai. Cioè, tu mattoni fai tu. No, non ne ho molti, però lo faccio io. Vai, vai, vai. Facendo una cosa così, gli metti due scalette. In modo che possiamo guardare. L'altro va là sotto. Con questo qua, che guardare. Vai, rimani così. Bravo. Vabbè, qua se ci lancio una gannata, fanno... Eh, Alfredo, hanno costruito a 3.30. Vabbè, mi chiamano, sono distanti. No, 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 no. Ci stanno, stanno fettando... Stanno fettando da dietro. Veloce, mare. Spariamo. No, ormai è terrato. No, ormai è terrato. Ieri abbiamo sparato, mare, a colpi di cecchino. Occhio, ok. Ne abbiamo uno, credo, a sud. Però l'ho intravisto. Sì, si, sta salendo qua sopra verso l'aerodrop. Veloce, veloce. Ti prego, fra veloce. Dammi lo scar. E scar sia. Eccolo. A posto. Prenditi, prenditi lo scudo. Alfio, quando loro si sta arrivando. Però munizioni non me ne date. Ok, ha cambiato arma, Alfredo. Qua, 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 Alfredo. Qua, qua. E qua. Ci sono due. Ha tirato uno. L'altro sta costruendo. Non si è accorto di me. Ok, fatto. Qua, si aveva questo? Bar, non hanno un cazzo di niente. Però aveva le munizioni di lanciarazzi, che l'ho visto. Ah, qua, qua, qua. Qua c'è un ghiaggia a granate. Prenditelo. Ma ce l'ho già un ghiaggia a granate. Aspetta un secondo, fra mi devo prendere un medikit di corsa. Ne sono due, ne aveva. Ah, minchia, aspetta, non siamo dentro la safe. Qua, 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 qua lo sono. Vai, costruisci qua, farà perché. Ah, minchia, 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 fuori, Alf. Entra, entra, da qua puoi entrare. Vai, spianciò un secondo, metto due scalette. Mettiamo una. Minchia. E dove cazzo cade l'alertropa? Veloce. Lancia, ragazzi. Minchia cecchino dorato. Cicchino. O prendi meglio, prendi, 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 prendi. Tu prendi, prendi, tu prendi, tu prendi, tu prendi. Tu prendi, tu prendi, tu prendi. Tu prendi, tu prendi, tu prendi. Tu prendi, tu prendi, tu prendi, tu prendi, tu prendi. Io puoi dire, ci puoi lanciarate. No, no, io puoi dire, ci puoi lanciarare. Chi non aspettino fare adesso una cosa, però, guarda. Sali, 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 a fa e veloce. Ok, e poi devo mettere. Eh, ok. Qua, perfetto. Allora c'è un altro airdrop comunque Vediamo quelli Ah l'hanno usato la cosa vedi La jump hanno usato al fre Siamo rimasti due contro due Ah al fre la stanno a ovest A ovest Dove di preciso? A ovest sopra il palazzo Ah in quell'altro fortino? Mhm Secondo me possiamo sfruttare quello là sotto Aspetta stanno costruendo Prova a prenderlo No ma non E' difficile Ah fra aspetta Tanto tutto comunque Io ho dato il coso La safe non li prende Sì no sono allorin Vieni safe Aspetta sta uscendo da destra Andiamo a fare l'altro prima Ma te che dici che sono due separati Sì sono due separati E infatti Minchia ancora quello là mi sta comandando a sparare Oh non mi prendi Guarda dai cazzo sta l'altro Eccolo Bravo Eliminato Lancia il lancia granate usa Oppure lo prendi io Lo prendi io No no lo scar Non me ne faccio un cazzo lo scar Ok Alfecci andiamo sotto Lo prendiamo con lancia Lo lancia razzi Con lancia granate Tutte e due Veloce Io non c'ho il lancia granate Sta sparando No l'ho preso per un centimetro Ovviamente l'avessi preso una volta È là Alfecci andiamo senza vita Che aspetta l'ho visto Ah la safe c'è qua Aspetta l'ho quasi ucciso Ah fai sperando mi devo curare È là sopra Tranquillo Fra esci la testa Fra esci la testa Che non mi vedi tanto È senza vita È là dentro È sotto È sotto È sotto Sì Bellissima Bella Bella Bella